I danni provocati dai cinghiali nel parco del Conero continuano a far preoccupare. Per questo motivo è stato organizzato al Conero Golf Club, anch'esso diretto interessato al problema degli animali selvatici, un tavolo di confronto con tutte le associazioni di categoria e gli imprenditori, che hanno condiviso un documento che chiede l'intervento della Regione Marche allo scopo di risolvere una volta per tutte l'annoso problema. Il problema rimane quello dell'eradicazione e credo che su questo c'è la necessità, oltre che del coordinamento delle associazioni, anche di una richiesta alla Regione Marche di poter definire le modalità e i tempi di attuazione di questo abbattimento per quello che riguarda i cinghiali. Il parco ha dimostrato in questo momento di non essere in grado di risolvere il problema. Il problema esiste, è vero, lo tocchiamo con mano tutti quelli che lavorano e operano in questo territorio e quindi c'è bisogno di una risposta concreta da parte delle istituzioni. Lo stesso Conero Golf Club chiederà alla Regione un risarcimento per i danni subiti ai campi da gioco e un finanziamento per la realizzazione della recinzione di tutto l'impianto sportivo.